Ieri in tarda serata il Consiglio dei Ministri ha emanato nuove linee guida sul gestione del problema del coronavirus alla luce del salto di qualità che c'è stato nel nostro Paese. Confermiamo che nella nostra regione al momento non ci sono casi di positività, tutti i tamponi fatti sono risultati negativi, ma questo non ci esime dal tenere altissima la guardia. Non bisogna fare inutile allarmismo ma neanche sottovalutare un problema importante. Grazie alle linee guida si rafforza sempre di più tutta quell'attività di prevenzione e di attenzione che permette da una parte di non essere contagiati e dall'altra evitare che soprattutto gli operatori sanitari, che sono quelli che più facilmente vengono a contatti, possano andare a rischio. scelte che riguardano il fatto di limitare gli spostamenti, i luoghi affollati, fare attività di prevenzione come è stato detto più volte, da lavarsi le mani e tutto il resto e crediamo sia importante mano a mano aggiornare, rifondere queste informazioni proprio perché ognuno possa essere messo in condizione di dare il proprio contributo. È evidente che la partita non la gioca nessuno da solo ma bisogna che tutti quanti, nelle proprie responsabilità, nei propri compiti, nei propri comportamenti, diano una mano. Come Regione, come Servizio Sanitario, come Gores, che è la struttura che fin dal primo momento si è attivata per seguire la cosa, non mancheremo mai di informare, di dare tutte le indicazioni per fare al meglio la nostra parte e chiedendo a tutti quanti di fare al loro.